Usiamo un po' di musica jazz per aiutarci a tonificare le nostre gambe e i nostri glutei con questi movimenti balzati che ci permetterà veramente di avere il massimo del nostro corpo. Allora, come facciamo? Facciamo un piccolo passo laterale, ok? Vedi che sono molleggiata? Ricordi che tutti i movimenti molleggiati sono quelli che ti stimolano il ritorno linfatico e microcircolatorio per tonificare, ma non solo, ti aiutano anche a tenere quelle gambe tonici e anche le vostre glutei più alte, ok? Questo noi chiamiamo Charleston. Adesso aggiungiamo le braccia, aggiungiamo le braccia. Piccoli passi, pensate, anni venti, ok? Due, ok? Tre, adesso facciamo piccoli salti. Facciamo uno e due, ancora tre, quattro, sentiti leggera, ancora sei, sette, ottimo, otto, bravissimi. Adesso andiamo a fare il nostro secondo lavoro insieme. Un plié in quarta posizione, facciamo uno, due, tre, tiro indietro. Uno, due, tre, tira, pensi di essere una ballerina. Tre, tira, uno, due, tre, abbiamo gli addominali tesi, come se stessi raccogliendo tutta la tua energia. Ok, su, ancora. Uno, due, tre, tira, su, dammi l'altro due volte. Due, tre, su, ultima volta. Due, tre, su, raccolta, bravissime. Cambiamo gamba, andiamo dall'altra parte, la gamba viene avanti, la tua postura è sempre perfetta, spalla indietro, abdominali tesi, facciamo uno, due, tre, tira, usa la terra. Due, tre, tira. Uno, due, tre, and tira. Uno, due, tre, tira ancora. Uno, due, tre, tira ancora. Uno, due, tre, ferme qua, bravissime. Senti quanto ti stai diventando quasi come una ballerina, più bella, più tonica. Ivarichiamo, adesso andiamo in seconda posizione, le braccia vanno di fronte a noi, facciamo un movimento che si chiama pliometrico, vuol dire che faccio salto. Ok, siamo pronte ragazzi, facciamo otto volte, su, ok? Eight, seven, six, five, ancora quattro, quattro, tre, due, uno, bravissime. Lasciati liberi, sgranchire le gambe, come chiamo io. Adesso apriamo le braccia, come se stessi provando di schiacciare un biscotto indietro le scapole. Ah, schiaccia, schiaccia, perché purtroppo anche lì abbiamo una tendenza di accumulare un po' di adipe. E dove c'è adipe? C'è il pericolo dell'inestetismo e della cellulite. Allora, tra queste schiena, tira, due, tre, quattro, cinque, sei. Adesso fermiti e questa andiamo in isometria, schiaccia con tutta la forza, non ti muovere, non ti muovere.